Nel nostro paese sono ancora tanti gli allevamenti lager che nascono e si alimentano anche del fatto che c'è chi vuole assolutamente acquistare un cane di razza. Noi in ogni modo diciamo a tutti coloro che ce lo chiedono che in questo caso bisogna rivolgersi solo ed esclusivamente agli allevatori ENCIA, quelli che hanno il cosiddetto affisso e che quindi danno delle garanzie e anche recentemente c'è stato un altro caso quello dell'allevamento di Casaluce nel mezzogiorno che una volta di più ha dimostrato quanto sia un fenomeno da debellare quello degli allevamenti lager. Erano centinaia i cagnolini che vivevano in quel luogo in una condizione terribile chiusi in piccole minuscole gabbie senza nessun contatto con il mondo esterno completamente traumatizzati. Bene, li abbiamo salvati noi di Leida e tante altre associazioni tutti insieme una grande operazione collettiva. I volontari sono intervenuti e i Cockers Angel che come dice appunto il loro nome si occupano dei cocker in difficoltà ne hanno ritirati un numero importante. Quindi oggi Cristina di Cockers Angel è venuta a trovarci portando con sé la piccola Frida che è uno di questi cagnolini sequestrati in cerca di famiglia. Benvenuta Cristina, parlaci di Frida. Lei ha circa tre anni, è un'ex fattrice nonostante sia assolutamente sottotaglia probabilmente avrà partorito dei cuccioli che erano più grandi di lei, li avrà pure allattati. è una cagnolina che è parecchio timorosa, probabilmente deprivata dal fatto che non è mai uscita da quella gabbia, da quella situazione, quindi lei ha molta paura anche degli esseri umani. E chi può darti torto Frida, usata, strumentalizzata, come una macchina per produrre cuccioli e per arricchire qualcuno? Qualcuno che adesso non farà più questo mestiere e tu troverai una bella famiglia. Frida ha bisogno del vostro aiuto per conoscere il mondo e il vostro amore. Quindi allora Cristina, diamo subito il numero di telefono per adottare questa meraviglia. Il numero di telefono è 338-490-9972. Benissimo.